ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qui in sala del casino di portomaso in occasione del poker live adventure che sta appunto andando verso lo scoppio della bolla 40 giocatori ancora in gara quando i bui sono saliti a 6.000 a 12.000 con l'ante a 1.000 cerco di andarvi a inquadrare il tabellone che ci dice anche che 221.795 è l'entità dello stack medio come vedete la sala è per metà oramai votata quindi veramente pochi giocatori rimangono allo scopo della bolla che vi ricordo verrà a 28 player left noi ci diamo appuntamento per i prossimi video di giornata come sempre pokeritaliaweb.org per il grande poker ciao a tutti